in quel tempo gli apostoli che erano andati a predicare alla gente tornarono da gesù e gli raccontarono quello che avevano fatto ed insegnato gesù disse venite con me in un posto tranquillo e riposatevi un po erano in riva al lago e salirono su una barca per andare in un luogo tranquillo ma la gente li vide partire capì dove stavano andando e arrivò prima di loro così quando gesù e i discepoli scesero dalla barca c'era già una gran folla ad aspettarli gesù guardò le persone erano come delle pecore senza il loro pastore allora si mise ad insegnar loro molte cose grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti